L'Istituto Tumori di Bari diventa pollo formativo del corso di laurea in infermieristica della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bari. Le lezioni al Giovanni Paolo II Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico hanno preso il via grazie all'accordo sottoscritto con la Scuola di Medicina dell'Università Barese, che vede da quest'anno l'oncologico tra i poli formativi per i futuri infermieri al pari di altre sedi già attualmente attive in altre aziende sanitarie della Regione Puglia. Completiamo il percorso di miglioramento e anche strutturale e organizzativo attraverso l'istituzione del primo anno del corso di laurea in scienze infermieristiche, che per noi rappresenta un punto di orgoglio, un punto di partenza, non soltanto un punto di arrivo, perché all'interno del nostro istituto le professioni infermieristiche avranno la possibilità di formarsi nel percorso di cura oncologico. Gli studenti, 30 in totale al primo anno, frequenteranno le lezioni frontali nelle aule dell'istituto e dal secondo semestre svolgeranno il tirocinio professionale e i laboratori nei reparti dell'istituto. Il personale medico, infermieristico e del settore della ricerca svolgerà alcune delle lezioni secondo quanto previsto dal piano di studi della scuola di specializzazione dell'area sanitaria dell'Università di Bari.